... Piano piano! Piano piano! BelloCE! Piano piano! Piano piano piano! Grazie a tutti. Certo. Stadio e Tornano. Adesso, adesso. L'onore di pranzare con Totò, quanto ha pagato? 16.000 euro. Ma almeno Totò mi ha fatto la fattura, così l'ha scavito dalle tasse. 16.000 euro? 16.000 euro. Sì, però io gli ho fatto la fattura. Ma vi ricordate che è falsa? Benissimo. Postiamoci. Ecco qui, siamo pronti per il format che tiene a galla Rai 2. Sto parlando di Trova l'Intruso. Pregherei Eleonora Pedron di accomodarsi a centro studio. Grazie.